Abbiamo concentrato le risorse per aumentare gli stipendi dei lavoratori, eliminare le liste d'attesa nella sanità e sostenere le famiglie. Dal prossimo anno l'80% per un altro mese per il congedo parentale, asilinino gratis a partire dal secondo figlio e poi la decontribuzione per le mamme lavoratrici dal secondo figlio in poi. Un segnale concreto, concretissimo a sostegno delle famiglie.